Troi Bellis con questa moto a Portimao, moto completamente di serie, 1198 S, gira sul 50 di passo, ma si lamenta perché la moto tocca in quasi tutte le curve, soprattutto a destra, così il meccanico ha appena tagliato la leva del freno, così Troi proverà a scendere sotto il 50.